Gentili telespettatori, buona giornata. L'appello del Nord Italia a Salvini, ora un cambio di passo. Alcuni giornali dicono, ma Salvini viene messo alle strette, lo vogliono cambiare. Ma non si può cambiare Salvini, perché il partito è suo. Parliamoci chiaro, ma ancora con questi errori macroscopici. Questa Lega non è quella di prima, quella di prima è parzialmente aperta o parzialmente chiusa, perché sta continuando a pagare i debiti quelli che conosciamo. Questa Lega, quella Lega Salvini Premier, l'ha fondata lui. È lui il proprietario, il padrone della Lega, è lui. Come fa a essere in discussione il padrone di un partito? È come se in discussione fosse Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, o Silvio Berlusconi con Forza Italia, o Paragone con Italexit, o Calenda con... come cavolo si chiama, non mi ricordo. Ecco, questi sono politici che hanno fondato un partito, non sono in discussione. Se il partito precipita, precipita con loro. Non esiste un cambio di Salvini. E lui è tranquillo, lo ha sempre detto, ma non c'è nessun problema per la mia leadership. E certo, l'azienda Lega è sua. È sua. Quindi come fa ad essere in discussione se è sua? Con una lunga missiva di tre pagine, militanti e dirigenti locali si sono rivolti a Matteo Silvini per chiedere di essere ascoltati. E certo, un partito che passa dal 4 al 35 e al 14 torna giù, diciamo che molti si sono fatti delle domande, ma se le sono tenute per loro, perché andare contro il capo politico vuol dire che la carriera lavorativa in politica finisce. Ovvio, se voi andate contro il capo politico avete finito la carriera. Ma ci sono anche persone esterne, collaboratori, che quando dicono mezza parola verso il capo politico di turno vengono fatti fuori. Come vi raccontavo qualche settimana fa che a Radio Radio ho conosciuto una signora che lavorava gratis per un partito, faceva le vignette. Quando gli hanno chiesto di fare le vignette su un tema sul quale lei non era d'accordo, dice noi o in questo caso le vignette non ve le faccio, non l'hanno più chiamata. E gli hanno detto a Roma hai fatto innervosire qualcuno. Questa lavorava pure gratis ed era un personaggio esterno che gli faceva pure gratis i lavori. È bastato dire no a una vignetta perché non era d'accordo col tema che l'hanno fatta fuori politicamente. Questo per farvi capire che i capi politici che fanno tutti buoni in televisione non offende mai nessuno, guarda come parla bene. Poi quello che c'è realmente nella struttura piramidale del partito è di solito una cosa molto verticistica dove o fai quello che dice il capo politico o fuori dalle scatole. Ecco, quindi un politico locale o un parlamentare che si mette a dire al politico di turno guarda che il problema sei tu. Cioè vi immaginate uno che un parlamentare dice scusi scusi voglio parlare io. No prego prego parli. Il problema è nella Lega Salvini è proprio lei. L'hanno ancora capito che è lei il problema. Solo che l'azienda è sua e lei non può essere cacciato ma è lei il problema. Alla fine chi vince? Salvini rimane sempre lì. Il politico magicamente non c'è più poi. Ecco. Questo è per dirvi che nessuno può salire sul palco della Lega e dire scusi senatore Salvini guardi che il problema è lei. Non è il problema del governo. Il problema è lei. È lei il problema di se stesso e della Lega. Ovviamente questo è quello che uno sogna di dire e poi la realtà si sveglia e dice grande Salvini. Cioè il funziona la politica come nelle aziende. Quando ti metti contro la proprietà di un'azienda anche se sei un dirigente ti cacciano. Ti cacciano. Anche se tu ti sentivi il confidente, l'amico, quello che poteva permettersi di dire al proprietario dell'azienda guarda che stai sbagliando. Prova a dirgli a un proprietario di un'azienda anche se sei dirigente guarda che stai sbagliando. Fuori dalle balle. Ecco. Questo succede anche nei partiti. Ma in questa lettera, in questo scritto, dove tutti messi insieme, uniti per farsi forza contro il segretario, dicono ma segretario la realtà dei nostri giorni ci obbliga a fermarci a riflettere. Una svolta nazionale del movimento. E Salvini avrà detto. Fermiamoci a riflettere. Ma per Salvini la colpa è degli altri. Non è colpa sua. Salvini la colpa è del governo, di Draghi, degli altri partiti che gli rubano i voti, della congiunzione astrale della luna. Lui non ha colpe. Sono così i capi politici e i capi delle aziende. Loro non hanno mai colpa. La colpa è sempre degli altri. E questa regola vale in tutti i contesti. La colpa è sempre degli altri. Quindi timidamente gli hanno fatto questa lettera, ci vorrebbe... bisognerebbe fermarci e riflettere. A che serve? Bisogna tornare ad ascoltare la base, condividendo tra noi delusioni, amarezze, mal di pancia. Abbiamo deciso di mettere per iscritto alcune osservazioni perché chi occupa il giusto posto possa riflettere su ciò che la base evidenzia e chiede, affinché le defezioni e i malumori diminuiscano e i militanti possano ritrovarsi ancora come ai vecchi tempi. In queste parole, molto misurate per non alterare il capo politico, stanno chiedendo, bisognerebbe tornare ai vecchi tempi, con i vecchi temi, ascoltare la base, come dire, insomma, in modo molto gentile. E poi i firmatari di questa lettera ricordano quando c'era il grande Bossi che tuonava la sua voce nell'etere, nei nostri cuori, come simbolo del Nord, di quella parte territoriale viva, produttiva, capace, ricca di prospettive positive per il futuro. Insomma, il Nord chiederebbe un ritorno al passato, ai vecchi temi, no? Tipo Roma ladrona, la Lega non perdona, questa roba qua, no? A distanza di anni, dicono, tra alti e bassi, ci troviamo però molto lontani da quello che erano i nostri valori e le battaglie per cui tutti non lavorammo con energie e sacrifici. Allora, ai politici leghisti di oggi non piace più la Lega di oggi. Una Lega finta nazionale che poi deve andare in Sicilia nascosta dentro un altro partito, un altro logo. Che partito nazionale è se devi andare in mezzo a Italia nascosto dentro un altro partito perché sennò non ti votano neanche i citofoni. Ecco, allora il senso è questo, ma perché non ritorniamo a fare la Lega Nord, quella in Nord siamo noi e voi non siete? Ecco, vorrebbero tornare alla Lega di Bossi, ma la Lega di Bossi era al 4%, perché è una Lega territoriale. Vabbè, quella mi abbiamo parlato tante volte. E così il Nord d'Italia vorrebbe un cambio da Salvini, detto in maniera gentile per non farlo innervosire, come dire, riflettiamo quando c'era Bossi, però... Ecco, tutto detto molto paccatamente per non far alterare il capo politico che, come vi dicevo, è il vero padrone della Lega. Grazie a tutti e arrivederci.